Allora, questa è la Monferrina, questi sono i due rulli dove verranno avvolti questi fogli di pasta. Si carica il ripieno dentro questo cilindro che verrà messo qui dentro dove viene compresso e i ravioli escono da qui sotto. Questo è il rullo posizionato per essere di nuovo sfogliato tramite questa allo spessore giusto per fare il raviolo e si avvolge in questo modo. Ecco i ravioli che cominciano a uscire da sotto. Grazie a tutti. E' Davide grande. Grazie.